Ciao amici di Adora Channel, in questo video faremo esperimenti scientifici pazzi. Amici per questo primo esperimento dobbiamo avere due bicchieri con acqua calda e due bicchieri con acqua fredda. I bicchieri con acqua fredda avranno il colorante blu o azzurro nel bicchiere riempiti fino all'orlo e quelli caldi come vedete di rosso. Dobbiamo capovolgerli. Mettiamo il bicchiere d'acqua fredda sotto e quello d'acqua calda sopra bollente e poi quello con l'acqua calda rossa e quello con l'acqua fredda blu sopra e questo qua sotto. e adesso lo farà il mio papà perché è un po' spaventure. Insomma, mi potrei bruciare con l'acqua calda. vediamo, vediamo. Oh, mi sono tolta gli occhiali, non sono più la scienziata. Adesso sono tornata. è caduta un po' d'acqua ma non è successo niente. su, costacce, d'acqua. acqua credo. Non bruttarti. Uh, dai! Adesso sembra tutto uguale però quando soglieremo la carta fare un effetto uno bruttissimo e uno bellissimo. vai con ce la fa vai con ce la fa dai tieni il bicchiere fermo vedete amici vedo bene oh stanno amici dove noi abbiamo messo l'acqua calda sotto è diventato viola perché si sono mescolati e poi quell'altro dove abbiamo messo l'acqua fredda sono rimasti così solo al centro un po' violetto ma il viola è super scuro vedete amici rosso caldo viola mescolato e azzurro qui amici esperimento colorantoso caloroso freddoso e colorato riuscito amici mettiamo in pausa il video e vi spiego perché i colori si sono mescolati così l'acqua calda è più leggera quindi tende ad andare verso l'alto e quella fredda invece tende ad andare verso il basso perché è pesante amici quando i colori si sono mescolati di qua l'acqua calda era sotto e l'acqua fredda era sopra quindi vendevano ad andare uno al posto dell'altro perché quella calda voleva andare sopra e quella fredda voleva andare sopra quindi quando abbiamo tolto la plastica si mescolavano ed è diventata una cosa nera sul viola molto scura questi non si sono mescolati perché l'acqua calda era sopra e quella fredda era sotto quindi non si sono mescolati esperimento numero due amici quando noi dobbiamo travasare qualcosa un liquido in un altro bicchiere dobbiamo per forza mettere così se no fuori esce vedete amici io mi devo mettere sopra e poi versare se no se mi metto qua cade subito come tutti i maschi quindi io devo fare così per travasarlo in questo esperimento non faremo così useremo un altro metodo amici adesso basterà fare tirarlo su e questo farlo rimanere giù l'acqua scorrerà lungo lo spago che è attaccato sia qui sia qui quindi darà la possibilità di andare da questa parte da questo bicchiere a questo bicchiere senza far cadere nulla il filo deve stare teso se no l'acqua non passa via eeeh sta passando, sta passando sta passando, sta passando ragazzi, anche con un po' di difficoltà questo esperimento è riuscito amici se questo video vi è piaciuto lasciate like al canale, iscrivetevi e ciao